Fassa Dolomitica Per il Fassa è il momento migliore per ospitare la Dolomitica, ancora a 0 punti. Se i locali vogliono dire la loro quest'anno, vincano questa partita. Fiemme e Telbe. Entrambe le squadre arrivano da una vittoria, ma il Telbe vuole continuare a fare punti. Il Fiemme è dare continuità al proprio progetto. Sarà una partita entusiasmante. Gardolo Verla. Un punto separa i locali dal Verla, ma è ancora presto per definire giallo-blu come favoriti. Anche qui nulla di certo. Chi porterà a casa i tre punti? La Rovere Calceranica. I gialloverdi giocano sul campo della Rovere, pronti per continuare il filotto avviato già da inizio stagione. Per i locali sarà molto, ma molto difficile. L'Onalase S'Aquila Trento. A dispetto della classifica, si prospetta una trasferta tosta per l'Aquila, che ha dalla sua la classifica. Il pronostico appare sbilanciato, ma non così tanto. Mattarello Calisio. Un parigi in due partite è il massimo che queste due squadre hanno ottenuto in due giornate. Ora c'è l'esigenza di una vittoria. Chi la otterrà? Vattaro Civezzano. Non ha avuto molta fortuna nella squadra di casa, mentre il Civezzano arriva da due parigi sfortunati. Da che parte prenderà la fortuna in questa giornata? Ordo Civezzano. Grazie a tutti